Cresce, seppur in modo lento e costante, la povertà in Italia e anche Rieti segue il trend nazionale. Il report statistico del 2024 di Caritas Italiana, la povertà in Italia, ha svelato i dati. 269.689 poveri nella nazione, numeri di persone che sono in difficoltà, che hanno famiglie a carico. Sul territorio italiano ci sono 3.124 centri di ascolto e servizi della Caritas diocesana e di questi nel reatino c'è quello diretto da Don Fabrizio Borrello, che al Corriere di Rieti ha confermato la crescita costante di povertà in Italia. Ci riconosciamo nel report nazionale, ha spiegato Don Fabrizio Borrello. Nel reatino il numero dei poveri è in aumento, magari non clamoroso ma costante. In passato cercavano aiuti gli stranieri che arrivavano da paesi lontani e che volevano soprattutto un piatto caldo. Poi, ha continuato Don Borrello, lentamente sono arrivati anche i reatini che chiedevano un sostegno che poteva concretizzarsi in aiuto alimentare. Ma i poveri allora erano ben visibili. Oggi a questa categoria ne va aggiunta anche un'altra, quella dei poveri della porta accanto, che incontriamo tutti i giorni ma dei quali ignoriamo sofferenze e problemi. Ci sono persone, conclude Don Fabrizio Borrello, separate che prima vivevano dignitosamente ma ora accusano problemi economici. E c'è anche chi vuole essere solo ascoltato e poi aiutato. Il disagio sociale è in crescita ma con il supporto delle istituzioni e delle associazioni è possibile arrestarlo e avviare un percorso di cambiamento positivo.